Posso? Penso una cosa, ragazzi. All'inizio di quest'anno scolastico ci sono tante difficoltà, tanti problemi, tante le lezioni, i professori, i genitori, la dirigente, il lavoro che si fa, se non fanno qualcosa, dividiamo giorno per giorno. Però ci sono anche gli aspetti positivi. Questo per me è l'aspetto migliore della scuola. Voi immaginate che i vostri compagni due anni fa ancora non conoscevano il vostro futuro. Guardate con i passi avanti all'impatto. Questo grazie all'impegno loro e alla bravura dei professori. Ecco perché medica con un appagno di una scuola. Ecco, è ancora visto in questo momento un po' rilassato rispetto agli altri per chiedere la collaborazione di tutti. Perché si tratta di impostare una nuova realtà, di condividere delle regole e di rispettarle da parte di tutti, l'orario, lo stare a scuola, studiare. Ecco, quindi si tratta di collaborare tutti insieme. L'orchestra non è solo quella. Anche noi non in scuola siamo un'orchestra. Chi stona può stare male gli altri. Beh, la professori di musica non è così. Nessuno si può permettere di sbagliare. E praticamente l'effetto già viene rovinato. Quindi io approfitto per invitare tutti voi, tutti e ragazzi a collaborare perché la nostra scuola va davanti. Un'ultima cosa e poi passiamo subito, ritorniamo ad ascoltare una buona musica. Questa festa intende donare a voi ragazzi di quinta e di prima, media, un pensiero molto significativo, un pensiero simbologico. E tutti qua, cosa sono questi? Piante di carungo. Piante di carungo, esattamente. Grazie alla professione che ci ha ragionato, che ci ha ragionato, che ci ha ragionato, e grazie a tutti i loro compagni che sono andati a prendere il randello a ieri, o un primino. E grazie a tanti di voi che ieri ce li aiutavano a scendere da qui, adesso sono qui per voi. Io le consegnerò una cantina per classe. Chiamerò uno a uno rappresentante della classe e le consegno. però non solo per la classe, solo per ciascuno di voi. Siete contenti di portarla a casa o no? E' una cosa molto bella, perché da una cantina così, quando voi sarete grandi, nascerà un'altra buona musica di carungo come il nostro. Mi chiamano una a due adesso i rappresentanti, voi lo portate in classe e poi all'uscita della scuola, a ciascuno di voi ne vede uno e lo porta a casa. Non vada di morire le piardine. Ci vuole cura, patinanza, attenzione, attesa e tante, tante, tante patinie per aspettare che crescano. Allora, chi viene dalla prima? Qualcuno che viene dalla passata e continuiamo già dal periodo. che viene dalla prima? Vodovica. Vodovica. E con la prima? Vodovica. 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 Vodovica.